allora buongiorno grazie a voi che ci seguite grazie a andrea del monaco un economista che segue le questioni europee da molto tempo e grazie a natale cucurese del partito del sud roberto musacchio franco ferrari rosa rinaldi della nostra redazione di trasformo abbiamo voluto fare un incontro molto ma rapido veloce sul fondo di quello che sta succedendo in europa per la creazione costruzione di una risposta economica alla pandemia come trasforma europa in italia ed europa abbiamo lanciato una campagna non mess perché siamo convinti che quello sia un errore e così come stiamo lanciando una campagna a favore di un'europaizzazione del debito e quindi dell'impiego di euro bond e dell'impiego del di una bce che abbia funzioni anche diverse da quelle che ha oggi do subito la parola ad andrea chiedendo appunto di illustrare la sua idea di intervento da parte dell'unione europea prego scusami ti sente molto basso meglio ora sì avvicinati sì più possibile microfono allora intanto la cosa importante da dire è che in queste ore si sta decidendo il futuro dell'eurozona con un'ipotesi molto negativa cioè il consiglio europeo nella sua lezione di epoca questa notte tra i sette e il nostro aprile ha prodotto un nulla di fatto cioè si è creato un fronte come era prevedibile tedeschi, olandesi, austriaci e finlandesi per il mess contro gli euro bond e l'unica cosa positiva in queste ore è che i nuovi paesi, l'Italia, la Francia, la Spagna e gli altri sei che avevano fatto la lettera al presidente Fabio Michel per una risposta con gli euro bond per ora non si è spacciato quindi questo diciamo il primo risultato, cioè non c'è stata una divisione tra i cosiddetti paesi in difficoltà con un impatto del coronavirus diciamo più forte Italia, Spagna e Francia che hanno tenuto botta per ora di fronte a diciamo gli altieri dell'austerità sul meccanismo europeo di stabilità cioè con un'opposizione al meccanismo europeo di stabilità ma per far capire anche a chi ci ascolta perché altrimenti se no sembra una distinzione tecnica perché il meccanismo europeo di stabilità non funziona come strumento e perché invece è giusto dietro gli euro bond il meccanismo europeo di stabilità è il terzo strumento salva stati, in realtà salva banche che è stato messo in campo dopo la crisi del 2008 all'interno di una serie di salvataggi direttamente di banche greche e spagnole indirettamente di banche francese e serenze che erano creditrici delle banche greche e spagnole e che però ha provocato che cosa? Per la Grecia la sottoscrizione di un memorandum pesante quindi tagli alla sanità, al welfare complessivo, alla spesa delle infrastrutture e nel contempo anche per la Spagna, per il Portogallo, per Cifro e per l'Irlanda non è che la situazione sia andata molto meglio allora il punto qual è? Che se noi chiediamo liquidità all'Unione Europea tramite il meccanismo europeo di stabilità dovremmo fare negli anni successivi un rientro sul rapporto d'equito-pille quindi dovremmo fare una cura da cavallo a danno dei lavorativi e indirettamente anche del nostro tessuto produttivo dovremmo ridurre il potere di intervento delle strade altra cosa fondamentale di cui si parla poco perché l'Italia è anche il terzo contribuente netto al meccanismo europeo di stabilità e quindi noi ci dovremmo di fronte a una situazione paradossale per cui chiederemo il prestito per fronteggiare la crisi del coronavirus al meccanismo europeo di stabilità ma contemporaneamente dovremmo contribuire a questo prestito perché le regole del MES, il meccanismo europeo di stabilità che è un trattato internazionale sono molto chiare nel caso in cui un paese chieda assistenza finanziaria a un meccanismo europeo di stabilità non è esonerato dal dare il suo contributo concretamente cosa significa che il capitale diciamo sottoscritto complessivamente del MES è 700 miliardi il capitale è versato a tensione termine è 80 miliardi per l'Italia significa che il capitale sottoscritto è 125 miliardi il capitale del Stato è 14 se la matematica non è una opinione 125-14 fa 111 miliardi e da regolamento del MES in qualunque momento il consiglio dei governatori può chiederci regolamento vigente non la proposta di riforma che è in campo a regolamento vigente il consiglio dei governatori del MES può chiederci a noi Italia di versare con i 111 miliardi di differenze il capitale sottoscritto per farlo funzionare come ho spiegato su appunto in post chi può leggere il mio post no MES che ci fa finire nelle mani della Proia l'ultimo post mio pubblicato su appunto in post dove ci sono tutti i conti quindi il MES sarebbe una sorta di cravatta domanda ulteriore perché gli euro bond sono una cosa assolutamente necessaria perché per ora per ora perché l'euro non è una vera moneta ma è un sistema di cambiamenti perché domanda retorica l'euro non è il dollaro perché banalmente noi abbiamo 19 paesi che hanno l'euro e 19 tassi di interesse e 19 spread c'è lo spread tra i nostri BPP e Bund c'è lo spread tra i bonus, i titoli di spagnoli e Bund analogamente ciò accade con i titoli olandesi ma questo che cosa significa? che un'impresa italiana paga un tasso di interesse più alto rispetto a un'impresa tedesca e una persona che chiede il mutuo in Italia paga un tasso di interesse sul proprio mutuo più alto di un cittadino tedesco se verranno emessi gli euro bond sarà l'inizio della fine dello spread perché sul mercato finanziario si troveranno titoli pubblici emessi dalla BCE con tassi di interesse quasi nulli se non a zero come hanno tanti filori di Stato tedeschi o olandesi addirittura quelli che arrivano a tassi negativi e quindi finendo l'era dello spread la Germania e l'Olanda e l'Austria non potranno più essere vuol dire disonestamente competitive avendo pure la stessa moneta il motivo reale che tutti i tedeschi, gli olandesi, gli austriaci non vogliono il euro bond non è come viene detto che non vogliono accollarci il debito degli italiani non è che temono che gli italiani non paghino le cedole sul BTP perché questo fino adesso non è mai accaduto il motivo reale per cui si oppongono gli euro bond è che in questo meccanismo diciamo di deflazione ordinata per ora dalla Bundesbank e dalla banca centrale olandese e austriaca loro non possono fare il gioco di politiche deflative che vanno a scavito con i sistemi produttivi del sud Europa e quindi lo scontro che è nato in questo momento all'eco quindi avverte esattamente su questo quindi ricapitolando il MES sarebbe in prestito tramite il MES una gravata che trotterebbe diciamo l'economia italiana e attenzione il futuro potere di intervento dello Stato perché a noi ci avrebbe chiesto di ridurre il debito nel 2021-2022 con diciamo pure da cavallo nel contempo l'ipotesi degli euro bond che sono una bond che noi vogliamo chiamarli forrebbe fine alla dittatura dello spread e costringerebbe a pulire l'intervento pubblico su base europea questa è la domanda grazie Andrea ti interrompo perché abbiamo capito il nodo diciamo qual è volevo sentire anche un po' di reazioni da parte dei nostri interlocutori per poi darti la parola finale Musacchio per poi partire aspetta devi aprire il microfono perché per favore perché l'hai chiuso te ecco prego mi pare che hai inserito un elemento molto importante che è quello dell'azzeramento dello spread ora io volevo chiederti un po' in questo momento abbastanza drammatico credo che sia evidente che l'impalcatura costruita in questi 30 anni in questo momento è ostativa a trovare una soluzione quindi bisogna avere una svolta radicale sulla base della situazione esistente delle normative come vedi un combinato di intervento tra la possibilità di stampare denaro dalla BCE un ruolo degli eurobonde ora gli eurobonde sono normalmente titoli emessi dagli stati tu parli di titoli emessi dalla BCE potremmo avere anche una fase in cui sono la BCE che compra i titoli degli stati e la possibilità anche di diciamo così intervenire sul debito progresso perché non c'è dubbio che anche quello grava sulla nostra situazione grazie raccogliamo un po' di di questioni e chiedo a Rosa di intervenire no no io sono più interessata ora ad ascoltare diciamo non ho domande specifiche da fare Franco sì solo una sottolineatura mi interessava appunto capire questo aspetto della BCE fino a che punto diciamo la BCE può intervenire in modo illimitato perché si dice sostanzialmente la BCE stampa denaro quindi stampando denaro non ha nessun vincolo questo è un dibattito che c'è anche nel fare riferimento tra la BCE e la Federal Reserve americana e quindi può anche dare come dire denaro direttamente ai cittadini o alle imprese senza nemmeno passare dallo Stato ecco quindi mi collego a quello che diceva adesso Musato per capire meglio fino a che punto diciamo una banca centrale anche anomala come quella europea può dire stampo monete copro debito fino a che ritengo e come dire il limite rispetto all'economia cosiddetta reale della manovra della capacità di manovra della BCE Grazie Nadale Sì grazie volevo chiedere visto che tra l'altro probabilmente avrà letto la lettera che come laboratorio sud abbiamo inviato l'altro ieri dalle pagine di transfer ma oggi dovrebbe essere oggi pomeriggio diffusa anche da left online una lettera aperta al ministro del sud provenzano lettera che impatta proprio su alcuni di questi aspetti europei cioè la notizia che è uscita un mese fa detto dal portavoce del presidente von der Leyen che all'interno dello Stato nazionale si potrebbero ridistribuire quegli fondi previsti per il sud potrebbero eventualmente essere mandati a nord abbiamo iniziato anche una raccolta firme contro questa ipotesi che noi riteniamo scelerata vista le condizioni del sud e quindi praticamente a questo aspetto parliamo di una decina di miliardi di euro ci aggiunge anche che alcune fonti stampa hanno informato che sul tavolo del presidente delle regioni sarebbe pervenuta una comunicazione di Provenzano in cui si chiede di programmare anche le risorse 2014-2020 parliamo in questo caso voglio dire delle scorse dell'investizione sulla sanità specificando che l'eventuale maggiore attributo di risorse aggiuntive delle regioni meridionali all'emergenza coronavirus dovrebbero essere oggetto di una successiva compensazione intertemporale che avrebbe attraverso un ristoro premiale di risorse dal fondo di sviluppo e cosione per le suddette regioni nel ciclo programmazione 2021-2021 2027 da prevedersi nel prossimo documento di economia e finanza e da definire nell'ambito della legge di bilancio 2021 e quindi voglio dire bisogna capire se questa notizia è fondata e questa situazione abbastanza drammatica dell'Europa come può ripercuotersi sulle nostre regioni meridionali e se c'è questa possibilità grazie non so se Andrea ha potuto ascoltare le domande e le questioni poste prego Andrea mi sentite? lontana ma ti sentiamo allora inizio diciamo dalla fine dalla questione posta diciamo da Natale che se la più completa poi vengo sulla Bucce e l'emissione diciamo in riconoscenza allora per quanto concerne l'ipotesi di fondamentalmente frontezzare l'emergenza coronavirus usando i programmi di Bavis co-finanziati dai fondi europei nel ciclo del 2014 2020 che dal punto di vista contabile precedente sulla regola dell'MT3 si concluderà il primo dicembre 2023 e questo coinvolge sia i programmi co-finanziati dai fondi europei i principali sono tre fondi social europeo fondi europei di diritto regionale e altre fondi europei agricoli di diritto locale a cui poi si aggiunge parallelamente nella programmazione secondo fondi che Napali di Corese ha prima ricordato che è il fondo interamente italiano però programmato insieme a programmi europei citato il gioco di parole perché il fondo si è creato in un altro modo che è utilizzato dalla finanziaria del 2002 dell'allora governo per creare fondamentalmente il fondo governato dal CITO e dalla internazionale della programmazione economica che avesse una diciamo ripartizione territoriale che era la di questo 65% per il mezzogiorno 15% per il centro nord poi variata dal governo letta in 82 ora fatta questa premessa i numeri comunque li trovate nel mio penultimo posto su Washington Post dal titolo attenzione allo ceretto di Nottingham perché che cosa è accaduto che Provenzano ha fatto una lettera alle regioni di Provenzano che ha la delega per la internazionale territoriale tra l'altro il preciso che Provenzano ha una storia di meridionalista siciliano è il vice direttore della fine che è il principale strumento di studiare a chi è stato unico della cassa per il mezzogiorno quando la cassa per il mezzogiorno ha avuto anche una storia blonnosa soprattutto nella sua prima metà bene allora sinteticamente 2014 il il residuo dei programmi cofinanziati dai tre fondi europei ammonta a quasi 50 miliardi 49 di questi il 70% va al mezzogiorno l'ipotesi che è stata fatta da Provenzano in realtà a sostituzione dei ministri del nord è di travasare i soldi alla disposizione delle 8 regioni meridionali mezzogiorno diciamo grancianamente intese come Tuglia Sicilia Calabria Basilicata Abruzzo Unite e Cardegna dal sud al nord quindi sconvolgendo il riparto territoriale che vede il 70% circa di quelle risorse che hanno i finanziari dei fondi europei dal sud al nord con con la solida scusa che viene detto data la lentezza nella programmazione e l'esigenza di risorse fresche facciamo spendere di fronte la crisi di l'indicare di l'indicare l'indicare legata integrazione al nord tra altre riuniture perché così saranno veloci e in cambio nella programmazione futura 2021-2027 ci sarà un ristoro sul fondo sviluppo e coesione che verrà dato con una misura compensativa al sud ma il problema è non come dire ponibile in questo modo perché il fondo sviluppo è coesione già all'80% è un fondo vendiato al mezzogiorno da legge di stabilità del governo Letta nel 2014 addirittura detto prima nel 2002 quando fu creato il riguardo da 85 di di adesso 80 quindi non si capisce perché di fronte a un sud che mi aggancia una cosa importante sul riparto della spesa pubblica avviene s'ha fatto i conti oggi la spesa storica a che finire la spesa pubblica Andrea perdoni ti chiedo di essere più breve perché altrimenti non facciamo tempo a dare più chiudo su questo la spesa pubblica pro abitante nel sud è pari a 3400 la spesa pubblica nel centro nord è pari a 17000 quindi questo è il riguardo della spesa storica se noi facciamo un travato dal sud al nord aggraviamo questo di rispetto alle altre domande che hanno posto Roberto e Franco Ferrari allora nella crisi diciamo post 2008 tra interventi dell'ultima parte di Trescetti interventi poi di Mario Draghi sono stati riversati dall'ABC tra Quantity and Outright Monetary Transactions 1 e 2 circa 3.000 miliardi di euro il problema qual è? è che questi soldi sono andati per o aiutare le banche o aiutare le banche indirettamente per l'acquisto di di Stato e quindi in termini di sostegno di liquidità a suo tempo il motel di Trescetti ha fatto diciamo un esborso di circa 3.000 miliardi chiaramente non è infinito però è una somma sicuramente costitua che se la Lagarde mettesse sul piatto con il motel di Trescetti chiaramente diciamo sarebbe una risposta che si soffrerebbe dalla dettaglia dell'osprezzo ultima battuta la Cassa Depositi e Prestiti italiana potrebbe essere diciamo trasformata nella sua versione tedesca uno potrebbe chiedersi perché non è stato fatto semplicemente perché purtroppo noi non ci siamo dotati di una tecnica operativa della Cassa Depositi e Prestiti uguale al suo modo che ha fatto sì che la Cassa Depositi e Prestiti di fatto fosse uno strumento di intervento pubblico per salvare aziende difficoltà tedesche e contribuire al capitale diciamo delle carte diciamo rurali e delle banche diciamo costruire di intervento di intervento di intervento ti ringrazio dobbiamo chiudere questa puntata però teniamo aperto chiaramente il canale vorremmo risentirci anche dopo diciamo che il Consiglio europeo deciderà quali siano gli strumenti migliori per affrontare la crisi cosa che al momento ancora non è chiaro grazie ancora a tutti per aver partecipato e ci sentiamo comunque sul sito potete trovare tutti i materiali di Andrea e riguardano ciò che riguarda la questione degli eurobond MS e vi do appuntamento sempre sul nostro sito per la prossima intervista grazie a te grazie ancora Roberto scusate per i problemi tecnici questo fa parte della quarantena ciao arrivederci